Sono Carlotta Ferrari, sono la direttrice di Destination Florence Convention and Visitors Bureau e la presidente di Convention Bureau Italia. Mi fa estremamente piacere dare il mio feedback relativamente ai workshop velici organizzati da Sailing Challenge anche perché ho potuto sperimentare questo format da diversi punti di vista, avendo potuto partecipare come destinazione ospitante ma anche come supplier e talvolta avendo collaborato con questa società anche nel coinvolgimento della filiera o nella selezione dei buyer. Il format è assolutamente vincente, tutti i buyer vorrebbero partecipare a un evento di questo tipo e questo consente ovviamente di fare una migliore selezione dei buyer. Ho potuto incontrare clienti o anzi potenziali clienti che sono nel giro di un breve tempo diventati nostri clienti e devo dire che il format stimola anche un certo tipo di relazione che talvolta va ben oltre il semplice rapporto buyer-supplier che si viene a creare nelle occasioni o nelle fiere più tradizionali. Talvolta i rapporti si sono trasformati anche in rapporti di amicizia e comunque rapporti duraturi nel tempo che ci hanno consentito di sviluppare anche dei progetti molto importanti. Io consiglio assolutamente a tutte le destinazioni italiane di accogliere attività di questo tipo così come consiglio a tutti i colleghi della meeting industry italiana di partecipare anche perché non da ultimo il prezzo è veramente molto interessante e estremamente conveniente in particolare rispetto alla qualità che viene proposta sia dei buyer ma anche alla qualità più in generale del servizio e del format. Quindi voglio ancora ringraziare Sailing Challenge e in particolare il mio amico Oliviero Cappuccini.